Per quanto riguarda l'Albania, qualche magistrato rischia la testa, qualche magistrato sta rischiando grosso, perché comunque, oltre a quello di Paterpata, Paterna, Paternal, quel magistrato lì, dai, che il tempo ha ricevuto la sua e-mail agli altri magistrati, Meloni e Peggio di Berlusconi, facciamo qualcosa a bestia per farla cadere, a bestia a voi! Ho in alto di 600 mili iscritti, attiva della campanella per ogni aggiornamento, di cuore grazie a ognuno di voi, mi raccomando, like, perché altrimenti l'algoritmo, impicchiata, va nel dimenticatoio il mio canale, mi raccomando, tanti like per questo video e anche agli altri. Ora, caso Albania, scrivo per non dimenticarmi, caso Albania dei magistrati, qualcuno di loro rischia davvero la carriera, è vero, sì, è vero, perché comunque da parte del governo, e credo anche con i servizi segreti, ci sia questa volontà, se non già avviata, di andare a scovare coloro che hanno rotto le scatole per quanto riguarda il flusso di migranti in Albania, e poi il successivo rimpadrio in Italia, Bari presa attesa, anzi, Bari poi non lo so dove sono andati a finire. Adesso però c'è un altro tema da affrontare, molto serio, improvvisamente. Sapete che il report oggi ha detto, no, ieri è di martedì, ah, c'è un articolo a proposito del Ministro della Cultura, una specie di nuovo caso boccia, però al contrario, uomo verso donna. Tutto fa pensare Giulio Meloni che ci sia qualcosa tra loro, ma non Giorgia Arianna, ma non è questo il problema adesso, poi si vedrà, si vedrà domenica, se prima non sarà scovato quello che vorranno pubblicare, quelli di report. Spano, Francesco Spano, era praticamente il capo di gabinetto nominato da Giulio, per quanto riguarda la cultura, si è dimesso, si è dimesso, per quanto riguarda i diritti LGBTQ che succede, si dimette, perché ha ricevuto minacce di ogni tipo. Spano ha detto che aveva più volte chiesto le dimissioni questo qui, guardi, io mi dimetto. Giulio ha detto no, mi dimetto, ho detto no, mi dimetto, no, 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 alla fine. Spano ha detto guardi che mi hanno minacciato e non sono più sereno, la mia famiglia non è più serena, quindi io non me la sento più di continuare così, lavorerei male, voglio le dimissioni. Ma perché si è dovuto dimettere? Cosa c'entra questo spano? Chi è questo spano? A breve ne parleremo con altri video, perché c'è molta carne al fuoco. O poi tutto insieme ragazzi, sembramente fatto apposta per farla cascare. Ok? Grazie.